Sono stati installati in via Medina e nei prossimi mesi arriveranno anche a Piazza Garibaldi i primi cassonetti a scomparsa per la raccolta differenziata dei rifiuti. Si tratta di contenitori completamente interrati, campane che scompaiono nel sottosuolo, destinate a raccogliere carta, plastica e vetro ed estratte dai camion Asia per prelevare i rifiuti. È una soluzione tecnologicamente avanzata e innovativa realizzata in collaborazione con Metropolitana di Napoli che rientra negli interventi di riqualificazione urbana pianificati dal Comune e consente di liberare piazze, strade e centri storici dai tradizionali cassonetti esterni. Posizionate in via Medina negli appositi spazi individuati durante i lavori della Metropolitana, le nuove campane a scomparsa integrano il porta a porta e saranno installate successivamente in Piazza Garibaldi per impedire di raccogliere spazzatura dai cassonetti. Questa soluzione è stata proposta da Asia anche per gli interventi di riqualificazione urbana programmati lungo via Marina e Corso Umberto.